Oggi il mondo dell'advertising può beneficiare di una nuova soluzione, caratterizzata da forte innovazione, ARM. L'acronimo sta per Advertising Resource Management ed è il tassello che va a completare il panorama delle business applications storicamente composti dai sistemi IRPM rivolte al mondo del finance, HCM al servizio dei direttori delle risorse umane e infine CX, quindi Customer Experience e i sistemi di front-end a servizio dei direttori marketing e dei direttori commerciali. Si tratta di un'applicazione cloud che si posiziona come gestionale delle risorse advertising e a tutti gli effetti è completamente integrato con lo strato ad-tech esistente presso un cliente, quindi le DSP, sistemi di analytics e gli ad-server. Si rivolge a un ecosistema, è composto da primariamente i brand, quindi gli advertiser, quindi in prima istanza dei CMO e le persone all'interno del gruppo dei CMO che si occupano di media, ma si può rivolgere anche al mondo dei CTO, dei CIO e dei direttori finanziari, quindi dei CFO. In seconda istanza metterei i centri media che sono assolutamente target rispetto all'utilizzo di questa piattaforma, ma anche il mondo della consulenza, quindi i grossi big della consulenza che possono avere sia una polarità di agenzia, ma anche in ottica di re-ingegnerizzazione dei processi di business. I benefici sono governance, trasparenza e efficienza.